Come responsabile dei laboratori mi sono occupato di coordinare il trasferimento dei macchinari delle attrezzature dal vecchio sito di Scalmagno ai nuovi laboratori di Volpiano. Abbiamo coinvolto più di dieci aziende per darci supporto in questa fase e con l'aiuto di tutti i colleghi e ma soprattutto con la stretta collaborazione con i service line manager e di loro teams siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che c'eravamo prefissati, concludere tutto entro tre settimane.